Buongiorno a tutti, intanto è un piacere essere qui, sembra chissà che da come sono stato descritto, ma comunque ringrazio gli organizzatori. È sempre importante avere questo tipo di eventi, perché divulgare ciò che si fa è fondamentale, è fondamentale per vari motivi, non fosse altro che spesso e volentieri noi lavoriamo chiusi dentro le nostre stanze, dentro i nostri laboratori e spesso non c'è un dialogo verso l'esterno e non si capisce, pare chissà che facciamo, in realtà quello che facciamo è molto vicino alla vita quotidiana di ognuno di noi. Quindi speriamo di divertirci, spero di accompagnarvi in questo viaggio verso la rivelazione delle onde gravitazionali. La cosa importante, mi auguro che questo sia anche un dialogo, quindi io parlerò, interrompetemi quando volete e cerchiamo di instaurare un dialogo per far sì che quello che dico sia il più possibile colto da voi anche in aspetti che magari possano sembrare stravaganti. Quindi cominciamo da questo signore, questo signore che vestiva in maniera buffa tra 1600 e 1700, è stato chiaramente uno dei, anzi sicuramente uno dei più grandi fisici della storia, perfino più grande di Galileo. Io, insomma, Galileo è stato un colosso, però Newton è stato perfino più grande di Galileo. Una persona un po' stravagante, diciamo, per chi ha letto la biografia, oppure vi consiglio per chi non l'ha letta di leggerla, è una persona particolare, oltre ad aver lavorato in molti aspetti della fisica e non solo, alla fine della sua vita addirittura si è messo a fare l'astrologo. In quel tempo era abbastanza comune che i fisici e gli astronomi poi diventassero anche astrologi, perché bisognava sbarcare il lunario e quindi spesso si vendevano anche, diciamo, gli oroscopi. Quindi, questo signore ha formulato, è stato il primo, a aver capito che la forza di gravità era una forza, cioè che questa attrazione dei corpi, il fatto che noi camminiamo su questa grande sfera, riusciamo a rimanere attaccati a questa grande sfera e tutto ciò che noi lasciamo cade verso la Terra, è dovuto a una forza, questa è stata una grande astrazione, è stata forse una delle più grandi astrazioni che a quel tempo è stata fatta, che ha permesso poi di sviluppare tutta una branca della fisica enorme. Quindi di fatto la storia della gravitazione nasce col signor Newton e nonostante appunto in quegli anni ancora non fosse chiaro quale fosse il modello, chiaramente, planetario, insomma, il modello astronomico, c'era una lotta abbastanza, diciamo, aspra tra i vari modelli. Questo tipo, questa formula, questa idea della forza che attira i corpi, grazie proprio a una proprietà che è la massa, ha permesso poi di capire esattamente la dinamica dei pianeti, del sistema solare, ma non solo del sistema solare, anche di corpi estremamente più lontani. Considerate che la dinamica, per esempio, delle galassie di fatto è dominata ancora dalla meccanica di Newton. Ci sono delle approssimazioni che possiamo fare con la relatività, eccetera, ma di fatto alla base c'è ancora la fisica di Newton, quindi quell'equazione di Newton. Addirittura con quell'equazione si è scoperto che, da come questi oggetti ruotano intorno al centro, si è scoperto addirittura che c'è una massa che noi non vediamo, che è mancante, che addirittura chiamiamo materia oscura. Quindi la fisica moderna è estremamente legata ancora a Newton. Alla fine dell'Ottocento nasce questo personaggio, un altro personaggio abbastanza stravagante, molto diverso da Newton, chiaramente. Questo personaggio ha fatto delle teorie in pochi anni, in 4-5 anni ha fatto delle teorie che sono dei pilastri, in vari campi della fisica. È noto spesso per la teoria della relatività, ristretta o generale, in realtà ha fatto una quantità di lavori notevoli in moltissimi campi, considerate che lui è stato sostanzialmente quello che ha fatto nascere anche la meccanica quantistica, con il principio fotoelettrico. Questo signore ha generalizzato la teoria della relatività, che in realtà inizialmente era di Galileo, l'ha resa molto più generale, e rendendola molto più generale ha scoperto una cosa fondamentale, che ha cambiato il nostro approccio, diciamo, verso lo spazio e il tempo. La cosa fondamentale è stata che lui si è reso conto che la luce si propaga comunque sempre alla stessa velocità, in qualunque sistema di riferimento noi consideriamo. Questa è una cosa enorme, considerate che in quel tempo chiaramente il tempo era ancora assoluto, se si considerava che il tempo fosse assoluto. Dire che una velocità è sempre la stessa, siccome la velocità, voi sapete da che cosa è data la velocità, gli studenti sanno sicuramente che la velocità è che cosa? Uno spazio fratto un tempo. Quindi se la velocità è costante, che vuol dire? Che il rapporto spazio fratto tempo è costante, quindi se varia lo spazio deve variare anche il tempo. Quindi questo concetto è un concetto che ha cambiato drasticamente il concetto di spazio-tempo, tant'è vero che da allora è nata proprio l'idea dello spazio-tempo, non si parla più di spazio, non si parla più di tempo, ma si parla di spazio e tempo, sono estremamente correlati l'uno con l'altro, e tant'è vero che poi anche le teorie più moderne, per esempio l'idea del Big Bang o l'universo a bolle, insomma quelle delle teorie che continuano a nascere anche oggi, sono tutte teorie che legano ovviamente lo spazio e il tempo, per cui sì, ormai è abbastanza chiaro che prima della nascita dell'universo non è che l'universo è nato a un certo tempo, l'universo è nato con il tempo, cioè il tempo è nato insieme all'universo, prima non c'era il tempo, c'era un vuoto, questo vuoto non aveva né spazio né tempo, nasce l'universo e quindi si formano improvvisamente sia lo spazio che il tempo, quindi altra astrazione fenomenale per quei tempi, in realtà anche per i nostri tempi. In realtà questo signore, appunto, questo signore qui, Einstein, un anno dopo che ha fatto questa teoria, si rende già conto che c'è qualcosa che non torna. Che cos'è che non torna? È la gravità, perché la gravità è una forza molto strana, fino a quegli anni si stava cercando di capire la gravità, in realtà fino a qualche anno prima si pensava di aver capito un po' tutto quanto della fisica, dopodiché insomma comincia a nascere, comincia a scricchiolare la vecchia fisica, non che non funzioni, funziona ancora, nelle condizioni in cui si studiavano i sistemi, diciamo, in cui si studiavano prima, che si studiavano prima, però per approssimazioni diverse, quindi per oggetti estremamente piccoli o per oggetti molto veloci, cominciava a scricchiolare questa teoria. E la teoria della gravità, subito dopo, quindi circa un anno dopo, una ciascita della realtà ristretta, la realtà ristretta non considera la gravità, però questo signore si rende conto da solo che questa teoria stava mettendo in crisi la gravità per come la conoscevamo noi. Questo perché? Perché questo signore qui, appunto, Einstein, era un fisico teorico, che però era dedito a fare esperimenti, non faceva esperimenti di laboratorio, faceva esperimenti con la mente, erano delle astrazioni sostanzialmente. E uno degli esperimenti che ha fatto è stato quello appunto del... noto appunto, da cui è nato appunto il principio di equivalenza, di immaginare appunto che una persona che si trova sulla Terra, se lascia cadere un sasso, questo sasso lo vede accelerare e andare verso la superficie della Terra. Ma questo sistema è esattamente equivalente da tutti i punti di vista della fisica, è esattamente equivalente ad una persona che si trova chiusa dentro una scatola, nello spazio senza forza di gravità, che accelera con la stessa accelerazione di gravità che noi abbiamo sulla Terra. Questi due sistemi sono completamente indistinguibili, salvo il fatto che se noi consideriamo che ci troviamo sulla superficie di una sfera, le linee di forza del campo gravitazionale non sono esattamente parallele, ma sarebbero leggermente convergenti verso il centro di gravità. Ma se noi consideriamo che la Terra è sufficientemente piatta, diciamo, all'interno di questa scatola, non c'è nessun esperimento che ci può far capire se noi ci troviamo su un'astronave accelerata, con questa accelerazione, oppure all'interno di un campo gravitazionale. Questo cambia completamente le cose, cambia completamente le cose perché per la prima volta ci si rende conto che la forza di gravità è una forza molto strana, perché in un certo senso è come se non fosse una forza. Dieci anni dopo, sempre questo signore, questa è la teoria più bella che esiste nella fisica e probabilmente è totalmente stata fatta da questo signore, mentre le altre teorie, comunque, diciamo, gli scienziati del tempo erano quasi sul punto di scoprirle, questa teoria della realtà generale è nata completamente da lui, lui ha dovuto sviluppare in dieci anni, quindi dal 905 al 915, ha dovuto sviluppare una serie di algoritmi matematici per cercare di descrivere questa teoria ed è bellissima questa teoria anche perché è esteticamente bellissima. Ora, per chi si occupa di fisica, questa teoria, la formula di Einstein, che voi vedete qui, questa g mu nu uguale, t mu, qualche cosa per t mu nu, vedete, è una costante, un qualche cosa che è uguale a una costante per questa cosa qui. Allora, questa è una formula estremamente semplice, semplicissima, se uno vede semplicemente un qualcosa uguale a un qualche altra cosa con una costante, con quella che noi chiamiamo costante di accoppiamento. A parte che, insomma, uno dice, dovrebbe capire che cosa sono tutte quelle lettere, però è una teoria estremamente compatta, apparentemente semplicissima, che descrive di fatto tutto l'universo. Cioè, questa formula qui è una formula irrisolvibile, descrive l'universo e la possiamo risolvere solo, adesso con grandi computer, la possiamo risolvere solo per alcuni, diciamo, facendo delle opportune approssimazioni. Però di fatto è una formula semplice, dal punto di vista teorico, semplicissima, che descrive la gravità, in un certo senso. Che cosa lega questa? Allora, questa qui lega, da questa parte, questo g mun nu, quindi è un, questo è un tensore, ovviamente si è scaricata la pila del, questo g mun nu è un tensore, quindi non, insomma, in realtà sono 16 numeri, sono 16 variabili, rappresenta la geometria, la geometria dello spazio-tempo. Quindi abbiamo da questa parte la geometria dello spazio-tempo, da quest'altra parte una costante, questa è la g che compare nella formula di Newton, c è la velocità della luce alla quarta, pi greco è pi greco, otto è un numero, t mun nu è l'energia, l'energia, il tensore viene chiamato tensore, energia e impulso. Quindi abbiamo che cosa? Una geometria che è legata a un'energia. Tutto qui, niente di più. è veramente una formula estremamente semplice. Che cosa ci dice? Questa ci dice, in un certo senso, così a naso, ci dice che, se noi abbiamo, considerare che l'energia, vuol dire non soltanto energia per come la concepiamo noi, ma anche la massa, la massa è energia, che la massa è l'energia, Einstein l'aveva già scoperto dieci anni prima con la teoria della relatività ristretta. Quindi questo che ci dice? Ci dice che la geometria è legata, in un certo senso, alla distribuzione dell'energia e della massa nell'universo con una certa costante. Allora, questo in realtà è un concetto estremamente semplice perché voi, se pensate a un corpo elastico, voi immaginate un corpo elastico. Questa è un'equazione, un ingegnere la descriverebbe come un'equazione di stress strain, cioè stress e deformazione. Uno stress, se io faccio uno stress su un corpo, cioè quindi impongo una certa forza, quindi ho una certa energia ad un corpo, che faccio? Lo deformo. Quindi il corpo reagisce deformandosi. Quindi c'è uno stress che mi genera una deformazione, uno stress mi genera uno strain. Questa è esattamente la stessa cosa, ovviamente con le dovute cautele, perché qui abbiamo dei tensori, abbiamo dei sistemi un pochino diversi, ma di fatto la geometria è legata appunto alla materia. Quindi la materia e l'energia mi generano uno stress sullo spazio-tempo che modifica la geometria dello spazio-tempo. C'era un famoso fisico teorico, si chiama Wheeler, il quale diceva che sostanzialmente la materia dice allo spazio come curvarsi e lo spazio dice alla materia come muoversi. Quindi questa non è altro che di fatto un'equazione che ci dice che l'universo, tutto lo spazio-tempo, non è altro che un mezzo elastico. Quindi risponde alla materia, all'energia, esattamente come risponderebbe un mezzo elastico quando lo colpiamo. Quindi comincia a oscillare, si deforma ed oscilla. Tutto qui. Poi chiaramente se uno va a fare il calcolo matematico è estremamente complicato, tanto è vero che vi dicevo che è risolvibile. Però il concetto è veramente banale. Quindi è quasi, la forza della fisica spesso è proprio questa, che si fa tanta fatica per trovare un concetto che alla fine risulta quasi banale, quasi ovvio. La cosa importante però è che questo numero qui, questo numero, perché abbiamo detto che questo è legato a questo ma con un numero, questo numero qui è un numero che è estremamente piccolo. Allora, mentre fino ad allora con la teoria, con lo spazio-tempo diciamo noto precedentemente, di fatto questi due erano legati, lo spazio-tempo era infinitamente rigido, cioè non poteva mai curvarsi, nel momento in cui nasce questa teoria della realtà generale si scopre che lo spazio-tempo è un mezzo elastico che non è infinitamente rigido ma è estremamente rigido. Questo numero è un qualcosa che va come 10 alla meno 40, quindi è un numero, considerate che è un'equazione di stress strain, per esempio per l'acciaio ci dice che quel numero è circa 10 alla meno 11. quindi è un concetto che ci dice che l'universo è un mezzo elastico ma è enormemente rigido, quindi reagisce alla massa, a masse grandi curvandosi. Però altra cosa interessante è che ci dice che quindi la forza di gravità non è più una forza ma è semplicemente il fatto che la materia deforma lo spazio-tempo e quindi l'altra materia si deve muovere dentro questo spazio deformato e non soltanto l'altra materia ma addirittura la luce, tant'è vero che la luce si curva e questa curvatura della luce è via via più ovvia, qui vedete per esempio la soluzione dell'equazione di Einstein per esempio per un sistema Terra-Sole ma la cosa è ancora più incredibile quando noi andiamo a parlare di buchi neri perché abbiamo una curvatura che è talmente grande che lo spazio si curva su se stesso e si richiude su se stesso. Quindi noi abbiamo una superficie che chiamiamo orizzonte degli eventi che la superficie limite, la superficie che si è richiusa su se stesso all'interno di quella superficie c'è sostanzialmente una stella ma una stella con una massa talmente grande che ha deformato e ha creato quella che noi chiamiamo una singolarità. Quindi se un corpo si trova fuori può ancora scappare dal buco nero appena un corpo qualunque corpo anche la luce entra dentro quella superficie rimane intrappolato per sempre a parte delle fluttuazioni quantistiche di cui non ci occupiamo adesso. Per questo si chiama buco nero buco nero perché non può uscire nulla da quella sorgente da quella stella quella di fatto è una stella che però è nera quindi fino a un po' di tempo fa e un po' di tempo fa era il 14 settembre del 2015 noi questi oggetti non li potevamo vedere se no come deformazione verso l'esterno cioè noi vedevamo degli oggetti lontano dietro questo buco nero che venivano deformati perché la luce che passava vicino a questi oggetti si curvava ed arrivava a noi come se venisse da altre direzioni. Ovviamente la fisica del buco nero è una fisica peraltro affascinante basta immaginare che per quanto ne conosciamo ovviamente per quanto sappiamo della teoria risolvendo l'equazione di Einstein le variabili il tempo diventa spazio all'interno del buco nero lo spazio diventa tempo che cosa vuol dire questa cosa strana vuol dire semplicemente che noi fuori dal buco nero nel tempo viaggiamo solo in una direzione il tempo può rallentare o può accelerare però viaggia sempre solo in una direzione non possiamo andare indietro nel tempo però possiamo rallentare il nostro tempo se noi acceleriamo ovviamente noi non ce ne accorgiamo perché viviamo nel nostro tempo ma gli altri vedono il nostro tempo rallentato all'interno del buco nero mentre nello spazio ci muoviamo come vogliamo all'interno del buco nero nello spazio ci si muove solo verso il centro del buco nero raggiungendolo in un tempo infinito però nel tempo ci si può muovere ipoteticamente avanti e indietro quindi per questo che lo spazio diventa tempo il tempo diventa spazio questo sempre questo signore il signor Einstein a questo punto lanciatissimo un anno dopo scopre che la sua teoria della relatività generale appunto genera può predire l'esistenza di onde di onde particolari che vengono chiamate onde gravitazionali lui le chiama proprio onde gravitazionali che cosa sono queste onde gravitazionali sono come vi dicevo prima siccome l'universo di fatto lo spazio-tempo è mezzo elastico siccome si deforma allora è chiaro che se questa deformazione varia si genera questo mezzo elastico comincia a oscillare siccome è tutto collegato allo spazio-tempo una propagazione e una fluttuazione in un certo punto si propaga per tutto quanto lo spazio-tempo quindi lo spazio-tempo è un tessuto elastico se io genero una fluttuazione in un punto questo tessuto elastico chiaramente comincia a oscillare quindi questo è il significato delle onde gravitazionali il problema che come abbiamo visto nella formula di prima quel numero che ci lega l'energia o la materia alla deformazione è un numero piccolissimo quindi serve un'energia pazzesca per generare delle fluttuazioni delle oscillazioni rilevabili da un esperimento e come varia appunto lo spazio-tempo se noi abbiamo un'onda gravitazionale che viene perpendicolare al piano dello schermo la variazione sul piano dello schermo se noi prendiamo tanti punti disposti su una circonferenza è esattamente questa cioè le distanze si accorciano e si allungano su due direzioni perpendicolari chiaramente sfasate quindi una circonferenza diventa un'ellisse prima in una direzione e poi nell'altra quindi noi vedremmo la distanza tra noi due che si accorcia e si allunga ci allontaniamo e ci avviciniamo a seconda della fase dell'onda gravitazionale che sta passando il problema è che queste fluttuazioni qui siccome quel numeretto che abbiamo visto prima è piccolissimo sono estremamente piccole quindi per eventi più catastrofici in assoluto che avvengono nell'universo le scale se questi due punti si trovano a un metro senza il passaggio dell'onda gravitazionale l'onda gravitazionale generata da eventi i più catastrofici che noi possiamo immaginare dell'universo generano queste oscillazioni dell'ordine del millesimo di miliardesimo di miliardesimo di metro quindi stiamo parlando di una distanza piccolissima 10 alla meno 21 metri allora quando si parla di miliardi noi ormai il miliardo lo conosciamo tutti quanti questo è un gioco che faccio sempre agli studenti noi il miliardo lo conosciamo tutti siamo tutti convinti di sapere quanto è grande un miliardo in realtà un miliardo è un numero enorme se io infatti vi faccio la tipica domanda quanto è spesso un libro con un miliardo di pagine voi a occhio quanto rispondereste un foglio non è un millimetro mettiamo che un foglio è circa un decimo di millimetro sarebbe quindi 100 milioni di decimi di 100 milioni di millimetri quindi se noi facciamo il conto ci rendiamo conto che è enorme perché tipicamente uno risponde un metro 10 metri è spesso 100 chilometri quindi un miliardo è un numero enorme che spesso e volentieri noi non ci rendiamo conto perché noi diamo il nome alle cose una volta che diamo il nome siamo convinti di averle conosciute quindi il miliardo è un numero immenso noi stiamo parlando di un oggetto di una fluttuazione di un millesimo del miliardesimo del miliardesimo di metro quindi è una fluttuazione che è enormemente più piccola di tutte le scale che la fisica fino adesso abbia studiato se voi considerate la dimensione di un atomo il nucleo di un atomo è dell'ordine di 10 alla meno sapete più o meno quanto è grande un atomo? 31 non 31 no l'ordine di grandezza è 10 alla meno 10 metri ok quindi stiamo parlando anzi no 10 alla meno 10 metri è l'atomo è diciamo un millesimo o 10.000 volte più piccolo quindi arriva a 10 alla meno 14 metri quindi stiamo parlando di una fluttuazione che è molte volte più piccola della superficie sostanzialmente di un nucleo quindi chiaramente noi abbiamo dovuto fare una fatica pazzesca per riuscire a rivelare le mondi grazionali tant'è vero che appunto sono state diciamo teorizzate nel 916 e le abbiamo rivelate nel 2016 quindi fortuna ha voluto che ci sono voluti 100 anni esatti per rivelarle in realtà non è vero perché abbiamo detto 100 anni ma 100 anni è quando abbiamo dato la comunicazione noi la comunicazione l'abbiamo data l'11 febbraio ma ci siamo presi del tempo perché chiaramente dovevamo verificare per bene che quello che avevamo visto fosse veramente un'onda gravitazionale perché in realtà l'evento come vi dicevo prima è del 14 settembre del 2015 per la precisione alle 9.50 della mattina quindi a 9.50 della mattina quel famoso 14 settembre noi ci siamo svegliati e abbiamo visto ci siamo svegliati un po' prima in realtà ma abbiamo visto questa cosa diciamo che ci ha lasciato abbastanza con gli occhi sgranati ci sono voluti circa 100 anni però per vederla quindi questo è l'evento che abbiamo visto chiaramente è una ricostruzione del computer di un evento che abbiamo visto noi abbiamo visto due buchi neri che giravano uno intorno all'altro fino a perde perdevano energia perché dovevano lottare contro lo spazio-tempo perché lo spazio-tempo doveva curvarsi perché dovevano girare curvandosi poi questi due buchi neri una volta che sono diciamo collassati hanno generato un'onda gravitazionale che si è espansa è arrivata fino a noi facendo oscillare la Terra come vi ho detto lo spazio-tempo oscilla al passaggio dell'onda gravitazionale quindi noi abbiamo osservato questa oscillazione della Terra ovviamente non è così grossa l'oscillazione della Terra sarebbe stato facilissimo rivelarle e questa oscillazione della Terra è un'oscillazione che è dell'ordine appunto delle scale dei miliardesimi di miliardesimi di metro ovviamente quel tipo di oscillazione è un'oscillazione che è enormemente più piccola di qualunque oscillazione che avviene sulla Terra quindi la Terra tipicamente oscilla in maniera molto maggiore rispetto a quell'oscillazione quindi lottare cercare di fare una misura del genere vuol dire di fatto fare una misura contro tutte le oscillazioni che esistono già sulla Terra quindi per questo è stato complicatissimo perché qualunque cosa succede sulla Terra è un evento enormemente più grande dell'evento che noi stiamo cercando quindi la tecnologia che è stata sviluppata è stata una tecnologia pazzesca per riuscire a costruire gli strumenti che erano in grado che fossero in grado di misurare quelle distanze distanze dell'ordine dei miliardesimi dei miliardesimi di metro questo vi presento l'evento che abbiamo visto quindi quindi abbiamo visto sostanzialmente questo tipo di segnale questo tipo di segnale qui quindi un'oscillazione dello spazio dello spazio-tempo in realtà quindi anche il tempo in realtà accelerava e decelerava però noi lo possiamo considerare quello quasi fisso però lo spazio invece che noi vedevamo niente questo continua a non dare quasi segni di vita lo spazio che vedevamo utilizzo il mouse lo spazio lo vedevamo oscillare appunto con una deformazione dell'ordine di 10 alla meno 21 vedete quindi questo è un delta L su L sarebbe la variazione rispetto alla lunghezza che noi stiamo misurando le lunghezze di questi strumenti sono dell'ordine del chilometro quindi questo oggetto qui è dell'ordine di 10 alla meno 18 metri il miliardesimo di miliardesimo di metro e che cos'era quindi questo? era un evento appunto di due buchi neri che stavano ruotando uno intorno all'altro ruotando perdevano un po' di energia a causa della deformazione perché faticavano per far deformare lo spazio-tempo quindi lo spazio-tempo assorbiva un po' della loro energia per cercare di rimanere in equilibrio i corpi acceleravano cadevano uno sull'altro e quindi acceleravano acceleravano fino al punto che si avvicinavano sempre di più e a un certo punto si sono toccati quando questi oggetti si sono toccati erano a distanza di circa 350 km allora questi oggetti qui che abbiamo visto erano due buchi neri di uno 36 masse solari e un altro 29 masse solari quindi voi immaginate 36 soli tutti concentrati in circa 150 km e 29 soli concentrati in altri circa 150 km che ruotavano facendo all'inizio circa 35 giri al secondo un intorno all'altro quando abbiamo cominciato a vederli per arrivare a circa 250 giri al secondo quando si sono toccati quindi immaginate che evento che è stato è stato un evento pazzesco per fortuna era molto lontano perché se fossimo stati vicini saremmo stati veramente spazzati via da quell'energia quindi questi due oggetti pazzeschi ruotavano tant'è vero che quando si sono toccati andavano circa alla metà della velocità della luce quindi erano oggetti massivi con una massa enorme che però si muovevano quasi alla velocità della luce fino a che si sono toccati e sono diventati un corpo singolo quindi per la prima volta quel giorno noi abbiamo visto direttamente due buchi neri anzi in totale tre buchi neri perché abbiamo visto qui all'inizio la fisica sostanzialmente studiando questo segnale abbiamo studiato la fisica della rotazione una intorno all'altro di un sistema binario di due buchi neri dopodiché quando si sono fusi abbiamo visto quest'altra oscillazione qui quest'altra oscillazione qui era quello che noi chiamiamo il ring down cioè il corpo unico che si è formato che ha oscillato per un pochino fino a che si è fermato perché chiaramente non era inquiete si è formato da un evento così catastrofico era una specie di sfera che ha cominciato a oscillare un pochino fino a che si è fermato quindi questo è stato l'evento che per la prima volta è stato osservato tramite un messaggio completamente nuovo perché abbiamo rivelato un'onda completamente diversa rispetto a quelle che noi conoscevamo per questo noi tendiamo a dire che si è aperta una nuova finestra sull'universo perché fino a prima di quella data tutto ciò che noi conoscevamo dell'universo era basato sulle onde elettromagnetiche perché noi conoscevamo la luce quindi vediamo la luce delle stelle sostanzialmente o i vari colori le microonde le onde radio i raggi X i raggi gamma ma sono sostanzialmente onde elettromagnetiche niente di più che onde elettromagnetiche quindi i messaggi che noi conoscevamo dell'universo erano di fatto le cariche elettriche come si muovono in un certo senso le cariche elettriche nell'universo perché l'onda elettromagnetica è generata da una carica elettrica in accelerazione noi adesso abbiamo visto che cosa una massa in accelerazione quindi sicuramente le cariche elettriche hanno una massa quindi noi possiamo vedere con le onde gravitazionali da qui al futuro adesso i detector sono in fase di upgrade per migliorare la loro sensibilità però possiamo vedere cominciata diciamo l'astrofisica gravitazionale cioè possiamo vedere le masse in accelerazione quindi anche ciò che emette onde elettromagnetiche ma vediamo anche eventi che non emettono onde elettromagnetiche per esempio questo evento qui questo evento era un evento invisibile alle onde elettromagnetiche non emette nonostante sia così catastrofico non emette onde elettromagnetiche quindi per noi è un evento che non esiste non esisteva fino a prima del 14 settembre del 2015 quindi di fatto noi abbiamo visto un qualche cosa nell'universo utilizzando un sistema è come se noi avessimo fossimo stati diciamo sordi fino al 14 settembre e improvvisamente siamo diventati diciamo abbiamo potuto ascoltare un suono chiaramente adesso abbiamo ascoltato un primo suono ma ci aspettiamo chiaramente di cominciare ad ascoltare i vari suoni la musica in un certo senso dell'universo è come se avessimo acceso il sonoro l'audio all'universo quindi ci aspettiamo non solo di vedere altri eventi di questo genere ma ci aspettiamo quindi di capire per esempio siccome noi dell'universo conosciamo già ve l'ho accennato con quell'immagine della galassia conosciamo soltanto una parte perché noi dall'equazione di Newton sappiamo che le galassie ci nascondono qualcosa perché c'è una buona massa che noi non vediamo non sappiamo che esiste per la dinamica di come ruotano le stelle intorno al centro della galassia quindi c'è una massa mancante che chiamiamo materia oscura per esempio ma da altre osservazioni sappiamo per esempio che c'è un'energia oscura c'è una qualche altra energia che non è massa ma che è presente nell'universo perché sappiamo attraverso analisi di vario genere che c'è qualcosa e sappiamo quasi per certo che noi conosciamo dell'universo solo il 5% anzi un po' meno del 5% quindi quasi il 95% dell'universo ci è completamente ignoto con le onde gradizionali sicuramente potremmo fare un grande passo avanti per riuscire a vedere un'altra bella fetta di quel 95% per questo si è aperta di fatto una nuova finestra sull'universo quindi questi sono i dettagli solo per dare un'idea ai dettagli dell'evento che abbiamo visto abbiamo quindi un buco nero di 36 masse solari un altro di 29 masse solari sono oggetti pazzeschi per chi in una dimestichezza va sicuro sono oggetti pazzeschi questi due oggetti insieme hanno formato un buco nero di 62 masse solari ora basta fare il conto e vedete subito che 36 più 29 fa 65 masse solari quindi tre masse solari il sole è enorme tre masse solari sono servite solo per generare deformazione dello spazio-tempo quindi l'energia di tre soli è finita dispersa a causa dell'oscillazione della struttura dello spazio-tempo questi due eventi si trovavano questo evento cioè questi due questi due buchi neri si trovavano a una distanza di circa un miliardo e mezzo di anni luce quindi è un evento che è avvenuto un miliardo e mezzo di anni fa quando sulla terra c'erano i primi protozoi quindi quando sulla terra c'erano i primi protozoi è successo questo evento che noi abbiamo rivelato oggi come è stato fatto? allora questa è una bella storia una bella storia perché la scienza è un mondo diciamo governato da regole abbastanza diverse rispetto alla società in cui viviamo perché allora nel 2000 fino al 2004 avevamo due esperimenti diversi un esperimento negli Stati Uniti l'Aigo formato da due detector uno si trova nello stato di Washington vicino Seattle e un altro si trova nello stato della Louisiana vicino Baton Rouge che è la capitale della Louisiana e c'era un secondo esperimento con un terzo detector che si trova in Italia appunto come dicevamo prima vicino Pisa Cascina erano fino al 2004 due esperimenti diversi tre detector in due esperimenti diversi in cui c'era sostanzialmente come in tutti gli esperimenti una sorta di concorrenza per chi vedeva prima era una sorta di gara che avrebbe visto prima le onde gravitazionali solo che dopo i primi dati quando abbiamo cominciato a lavorare diciamo noi in Italia l'esperimento in Italia in realtà non è italiano ma era a quel tempo metà italiana e metà francese adesso è un esperimento un po' più europeo perché c'è lì quasi sostanzialmente la metà ancora italiana un po' meno della metà è francese però è entrata anche l'Olanda la Polonia e l'Ungheria questo diciamo fino al 2004 quando abbiamo fatto analisi di dati siamo resi conto che era estremamente difficile riuscire ad ottenere l'obiettivo quindi le due comunità quella americana e quella europea si sono unite per formare sostanzialmente un solo esperimento quindi questo è un grande messaggio che dà la scienza di fatto cioè per ottenere un risultato bisogna unirsi perché questi esperimenti sono esperimenti talmente complicati che hanno bisogno di competenze pazzesche in tutti i rami della scienza ingegneria fisica matematica tecnologia di vario genere analisi dei dati eccetera che bisogna unirsi bisogna fare squadra quindi questi due esperimenti sono diventati un esperimento unico dal 2004 di fatto abbiamo lavorato in parallelo scambiandoci le informazioni quindi noi abbiamo dato a loro le nostre competenze loro hanno dato a noi le loro competenze e quindi sono nati tre detector dello stesso esperimento che si chiama Laigo Virgo una comunità è fatta la comunità Laigo Virgo poi c'è un detector un po' più piccolino in Germania che in realtà serve soltanto per fare ricerca e sviluppo perché non è in grado di vedere le onde gravitazionali e adesso i giapponesi si sono uniti alla ricerca stanno facendo un esperimento più avanzato un bel esperimento all'interno di una miniera sotto terra 1500 metri sotto terra creogenico addirittura quindi un esperimento molto avanzato e chiaramente per fare quello hanno chiesto le nostre competenze per esempio noi del gruppo di Perugia adesso lavoriamo anche per l'esperimento giapponese quindi c'è questa rete a terra per quale motivo fare una rete anche oltre il fatto che è più facile è importante fare una rete perché a noi non interessa soltanto vedere l'onda gravitazionale ci interessa anche vedere dov'è da dove parte quest'onda gravitazionale identificare il punto perché nei momenti in cui noi riveliamo l'onda e diciamo che l'abbiamo rivelata in quel punto dello spazio tutti gli esperimenti per esempio di onde elettromagnetiche possono puntare i loro telescopi e vedere che cosa c'è in quel punto quindi di fatto è nata appunto l'astrofisica gravitazionale che è estremamente legata a tutto il resto dell'astrofisica perché noi possiamo vedere cose come abbiamo detto che non sono nel campo delle onde elettromagnetiche ma anche cose sovrapposte quindi è importantissimo per riuscire a svelare i segreti dell'universo riuscire a fare corpo anche con gli esperimenti delle onde elettromagnetiche qui sono delle immagini di questi diciamo grandi microfoni a me piace chiamarli grandi microfoni in un certo senso perché appunto le onde gravitazionali sono quasi diciamo sono più vicine alle onde acustiche che non a delle onde elettromagnetiche vedete qui qui abbiamo nel deserto dello stato di Washington vediamo l'esperimento uno dei due laigo l'altro si trova in mezzo a una foresta della Louisiana due posti infami francamente va sicuro che sono dei posti dove è bene rimanere chiusi dentro questi esperimenti piuttosto che uscire fuori qui considerate che c'era un coccodrillo che era addirittura che girava c'era un fiumiciattolo che stava lungo uno dei bracci di questo esperimento e c'era questo coccodrillo che ormai faceva compagnia a chiunque andava lì allo strumento quindi diciamo sono zone abbastanza impervie questa zona qui è un pochino meno impervie è la zona tra Pisa e Livorno dove c'è questo detector Pisa si trova in questa cittadina qui giù in fondo e questo qui invece è l'esperimento anglo tedesco come vedete quindi sono due oggetti sono tre oggetti a L quattro in realtà con questo piccolino a L questi sono lunghi quattro chilometri due laigo e Virgo invece lungo tre chilometri sono sostanzialmente molto simili come strumenti questa è una fotografia di Virgo certamente possiamo dire che è il più bello di tutti essendo per metà italiano è sicuramente il più bello degli altri esteticamente ma questo è riconosciuto da tutta la comunità quindi vedete qui giù c'è Pisa e dall'altra parte c'è Livorno quindi l'esperimento si trova in mezzo tra Pisa e Livorno quindi va sicuro che è abbastanza complicato lo schema dell'esperimento è questo qui è un interferometro interferometro che vuol dire che noi mandiamo la luce utilizziamo il laser la luce è un'onda quest'onda viene sparata dal laser verso uno specchio che è semitrasparente che noi chiamiamo beam splitter che divide il fascio luminoso in due parti una parte attraversa lo specchio semitrasparente un'altra parte viene mandata da 90 gradi su quest'altro tubo arrivano in fondo a questi due tubi lunghi tre chilometri torna indietro quindi questa luce ritorna indietro e si ricombina sullo specchio semitrasparente quindi una parte di questa combinazione di due fasci se ne va verso il rivelatore allora lo scopo del gioco vi ho detto è rivelare queste oscillazioni che sono oscillazioni di 10 per questo oggetto qui del 10 a meno 18 metri quindi il miliardesimo di miliardesimo di metro quindi vuol dire che tutto questo braccio di tre chilometri si allunga e si accorcia del miliardesimo di miliardesimo di metro ora il problema però è che con questo strumento con questa sensibilità noi siamo in grado per esempio anzi siamo dominati in certe regioni di frequenze per esempio dalle onde del mare cioè un'onda del mare Pisa si trova a circa 30 km dal mare a 30 km le onde del mare sbattono sulla costa generano un'oscillazione della crosta terrestre della placca diciamo dell'Italia e questa oscillazione si propaga e noi la vediamo vediamo l'oscillazione delle onde che sbattono a 30 km di distanza ma vediamo l'oscillazione delle onde anche che sbattono in Portogallo o al nord della Francia quindi questo è un esperimento che vede di fatto tutte le oscillazioni che noi neanche ci facciamo un'idea di quali possano essere immaginate noi ci troviamo a circa 100 metri 150 metri da una superstrada noi vediamo le macchine che passano vediamo riusciamo a distinguere perfettamente le macchine che stanno passando ci hanno costruito delle paleoliche a circa 2 km di distanza vediamo la rotazione delle paleoliche quindi nel momento in cui voi avete un oggetto del genere che è un metro di fatto pazzesco voi vedete una quantità di oscillazioni enormi che sono enormemente più grandi di quelle che voi volete misurare quindi l'enorme tecnologia lo strumento questo è un strumento semplice un strumento che in quasi tutti i laboratori fisici è presente è un interferometro quindi la luce che interferisce con se stessa però a quelle scale chiaramente è complicatissimo tant'è vero che gli specchi di questo strumento sono sospesi ad una catena molto particolare una catena di pendoli che serve per smorzare tutte queste oscillazioni quindi questo è un pendolo invertito cioè abbiamo questa massa qui che è sospesa a tre grandi colonne è alto circa 10 metri quindi il suolo vibra alla base di questa torre la testa della torre vibrerà un pochino meno perché fa da filtro meccanico e poi ogni stadio di pendolo fa da filtro meccanico ancora quindi è una tecnologia che è stata sviluppata che è pazzesca tutto questo perché questo specchio deve rimanere fermo per 10 alla meno 18 metri considerate per esempio la temperatura questo oggetto si trova alla temperatura ambiente la temperatura è fluttuazione degli atomi è dinamica quindi noi siamo dominati dagli atomi che oscillano perché gli atomi oscillano molto di più di 10 alla meno 18 metri quindi quello che succede sostanzialmente è questo abbiamo che il nostro fascio di luce si divide in due fasci arriva agli specchi finali questi oscillano a causa del passaggio dell'onda gravitazionale siccome la luce è un'onda la lunghezza d'onda noi in realtà parliamo di luce ma quella che stiamo utilizzando dentro gli esperimenti è negli infrarossi quindi non si vede è un laser a infrarossi che ha una lunghezza d'onda del micron considerate che la potenza di quel laser ora questo è un laser che ha 10 millivatt se non sbaglio 5 millivatt sono i laser commerciali il laser all'interno di questi 3 chilometri è 100 kilowatt cioè c'è una potenza pazzesca voi mettete la mano lì dentro e evapora quindi è bene che sia nel vuoto che non ci sia il laser non venga puntato trovo qualcuno però sostanzialmente quello che noi facciamo abbiamo i due fasci i due bracci che sono sfasati di mezza lunghezza d'onda quindi inquiete il sistema non dà luce in uscita perché c'è interferenza distruttiva al passaggio dell'onda gravitazionale noi vediamo la luce che oscilla una luce che si accende e si spegne chiaramente non è così semplice vediamo sempre la luce che si accende e si spegne a causa dei rumori però siccome diciamo abbiamo studiato tanto per cercare di capire che cosa vedere siamo riusciti anche a capire quali sono le onde elettromagnetiche gravitazionali e quali invece non sono onde gravitazionali quindi lì chiaramente bisogna lottare contro tutti questi in realtà questi sono solo alcuni sono i principali contro i sorgenti di rumore quindi di fatto è una lotta contro il rumore rumore per un fisico non è il rumore acustico soltanto non è un fastidio un suono fastidioso rumore è un qualunque segnale non deterministico che genera quindi delle fluttuazioni che non possono essere predette quindi il rumore è di per sé impredicibile è un po' una bestia nera della fisica in genere la fisica si fa per approssimazioni si prende qualche cosa che si dice che è rumore lo si prende si mette sotto il tappeto e si studia il sistema non rumoroso noi purtroppo abbiamo dovuto studiarcelo quel rumore e il rumore come si studia? si studia con analisi statistica si studia capendo che cos'è che lo ha generato quindi la fisica del rumore è una fisica complicatissima perché è una fisica altamente non lineare però ci si possono fare anche cose molto interessanti per esempio con il rumore noi a Perugia siamo uno dei due laboratori più importanti per quanto riguarda la fisica del rumore e utilizziamo per esempio il rumore per fare anche detection cioè noi abbiamo scoperto insieme a un gruppo di Roma negli anni 80 questa cosa l'abbiamo sviluppata noi qui che si può utilizzare il rumore per migliorare uno strumento di misura piuttosto che perché se non c'è rumore noi magari non riusciamo a vedere un segnale se c'è troppo rumore il segnale è nascosto dal rumore però se c'è una giusta dose di rumore l'energia di quel rumore ci può aiutare per rivelare il segnale questo è per esempio un trucco per cui il rumore diventa una cosa positiva ovviamente dentro Virgo invece il rumore è quasi soltanto una cosa negativa quindi dobbiamo cercare di fare in modo non soltanto filtrarle e non farle in alcune regioni di frequenze per esempio dove non ci interessano per ripulire altre regioni di frequenze per esempio un rumore tipico contro cui non si può fare nulla è il rumore termico appunto come dicevo prima il rumore termico se uno sta a una certa temperatura il rumore quello è le oscillazioni quelle sono però ci sono dei trucchi appunto per riuscire a prendere quell'energia rumorosa in un certo senso spostarla per far sì che nella zona dove si sta spostando lì il rumore sia molto minore quindi sono una serie di tecniche che sono state sviluppate per lo più per questo esperimento per cui l'altro messaggio estremamente importante è che un esperimento del genere che è costato se voi sommate laico e Virgo è costato circa un miliardo di dollari che non è una cifra alta perché se considerate un miliardo di dollari nella vita comune tra virgolette ci si costruiscono due o tre macchine di Formula 1 per tutta la stagione non è che stiamo parlando di cifre particolarmente grandi chiaramente a livello scientifico sono cifre abbastanza alte però questa cifra in realtà ha dato come 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 conoscenza e come brevetti per esempio una quantità di know-how che è stata utilizzata anche per un sacco di altre applicazioni le sorgenti rumore tipicamente almeno quelle principali agiscono appunto il rumore sismico agisce per esempio su tutte le sospensioni degli specchi il rumore termico è un rumore che avviene diciamo chiaramente per l'oscillazione degli specchi principali soprattutto dell'esperimento e un'altra sorgente di rumore per esempio il radiation pressure cioè il fatto che la pressione di radiazione i fotoni la luce è di fatto una particella massa zero ma è di fatto una particella che ha una sua energia i fotoni che sbattono sugli specchi nonostante questi specchi pesino 40 kg li spostano e li fanno oscillare con un'oscillazione che è enorme pure quella quindi ci sono una serie di rumori di cui io non si aspetterebbe mai l'esistenza se non lavorando a queste scale ora visto che siamo qui vicino qual è il ruolo di Perugia allora intanto vi dico che il ruolo di Perugia è nella minimizzazione di questi rumori soprattutto per esempio il rumore termico vi parlavo appunto del laboratorio di rumori che si trova appunto nel dipartimento di fisica e nella realizzazione dei sistemi di sospensione degli specchi ma un'altra cosa per esempio è che gli specchi dello strumento noi li andiamo a lavorare questi vengono lavorati diciamo viene fatto un polishing cioè una lavorazione superficiale estremamente accurata dal laboratorio di Lione è un laboratorio che è stato costruito apposta per questi detector che adesso vende specchi anche in campi più disparati anche campi militari e voi immaginate che la precisione della qualità superficiale è come se noi avessimo una superficie di 100 km con una fluttuazione massima in altezza di circa un millimetro quindi voi avete 100 km con una diciamo una planarità all'interno per 100 km all'interno del millimetro quindi è pazzesco il laboratorio che lavora su questo appunto è stato costruito da Virgo a Lione quindi anche gli specchi di Laico sono gli specchi che facciamo noi e vengono il dirigente per esempio di questo il responsabile di quel laboratorio è una persona che viene da Foligno che si è diplomato all'ITIS di Foligno questo per darvi un'idea che si è laureato a Perugia e poi adesso si trova lì a Lione quindi le competenze nate a Perugia sono competenze che sono state fondamentali chiaramente per questi detector siamo abbastanza orgogliosi di questo ovviamente noi altra cosa interessante è che noi coordiniamo i progetti futuri perché non ci vogliamo fermare a questi detector ma vogliamo fare i detector futuri e quindi a Perugia c'è il coordinamento dei progetti futuri per onde gravitazionali qui vedete delle immagini di uomini mascherati che lavorano su questi specchi gli specchi di questo esperimento sono quei cilindri lì qui li vedete rossi perché avevano delle protezioni per proteggere la superficie qui eravamo appunto a Cascina stavamo montando questo è un altro che è un tecnico anche lui è un tecnico di Foligno così tanto per darvi un'idea qui stavamo diciamo realizzando la sospensione di questi specchi che poi andavamo ad attaccare a questa catena alta 10 metri di pendoli e qui stavamo lavorando su degli incollaggi particolari fatti a Lione quindi il responsabile di questo laboratorio era appunto lei ancora quest'altro Cagnoli non so se qualcuno di voi lo conosce e qui appunto alla fine della sospensione ci siamo ritrovati questa fotografia che è una fotografia ufficiale di Einstein che era presente con noi alla sospensione del primo specchio questo era il primo specchio realizzato per Virgo eravamo molto fieri di questa cosa e qualcuno ci ha messo una sovrapposizione di questo personaggio vestito in maniera impropria però questo personaggio che si è infilato tra di noi quindi diciamo che sicuramente Einstein a 100 anni dalla sua teorizzazione può essere abbastanza soddisfatto quindi ho finito se ci sono domande fatele pure domande ecco qua le mie domande sono tre tre curiosità la prima è quella dei buchi neri essendo massa abbiamo detto che è energia l'uomo nel futuro potrà utilizzare questo serbatoio di energia secondo si possono definire le onde gravitazionali ancora il respiro del Big Bang no? in questo caso io non saprei come rispondere ovviamente a questa domanda posso provare a lavorare di fantasia diciamo il problema è che i buchi neri per fortuna si trovano molto lontani da noi quindi già raggiungerli raggiungere la stella più vicina al momento non siamo in grado insomma siamo in grado di raggiungere questi sassi che ruotano intorno al sole ma poco di più e riuscire ad arrivare alla stella più vicina che si trova a circa quattro anni luce insomma ci vuole già parecchio tempo arrivare al buco nero che si trova per esempio al centro della galassia che è quello più vicino che noi conosciamo che sembra essere lì quindi è ipotetico diciamo tutti i dati sembrano confermare questa cosa però sembra esserci questo buco nero al centro della galassia ci vorrebbero comunque enormi cioè una quantità di generazioni pazzesche non so se probabilmente prima della fine del sole noi riusciremo mai ad arrivarci quindi utilizzare l'energia che è presente sui buchi neri la vedo complicata anche perché la vedo complicata a tirarla fuori questa energia certamente però la conoscenza dei buchi neri può essere utile ipoteticamente nel momento in cui noi magari riuscissimo a farci in casa dei mini buchi neri queste ci sono delle teorie insomma dei mini buchi neri con essendo diciamo massa dalla massa energia noi riusciamo a generare massa per esempio accelerando della materia e facendola collidere quindi ipoteticamente noi possiamo generare dei buchi neri che poi se sono piccoli riescono anche a evaporare velocemente allora questa potrebbe essere una strategia però la vedo comunque talmente lontana e enormemente più lontana rispetto a tutte le altre diciamo ipotesi che abbiamo per generare energia o per utilizzare energia però sì diciamo dal punto di vista teorico sicuramente potrebbe esserci una strada la seconda domanda la seconda domanda era se il respiro del Big Bang sì sicuramente sì nel senso che uno dei motivi diciamo per cui dicevo che è una nuova finestra sull'universo è proprio questo allora per quello che sappiamo noi oggi dell'universo allora l'universo sembra essere nato da una fluttuazione del vuoto che è questo Big Bang quindi c'era il vuoto che a un certo punto per una fluttuazione ha generato a causa del legato dall'equazione di Heisenberg quindi delta E per delta T maggiore o uguale di un certo numero molto piccolo ma comunque maggiore o uguale di un numero non zero insomma almeno si può generare una piccolissima quantità di energia che rimane per un tempo enormemente lungo ora l'universo ha una piccolissima quantità di energia la somma di tutta l'energia dell'universo è estremamente piccola quindi è di fatto una fluttuazione del vuoto estremamente piccola perché c'è l'energia cinetica eccetera ci sono una parte di energia che sono positive e una parte di energia che sono negative quindi la somma dell'energia dell'universo è di fatto circa zero per questo questa è la teoria alla base Big Bang è nata una fluttuazione che rimane per un tempo molto lungo fino a che come è nata probabilmente sparirà secondo una dell'ipotesi purtroppo io non sarò lì a vederlo temo neanche nessuno di quelli presenti nella stanza però appunto dopo che è nato l'universo tutto ciò che noi conoscevamo dicevo era legato alle onde elettromagnetiche ma le onde elettromagnetiche sono nate quando? quando è nata la carica elettrica e la carica elettrica si è formata 300.000 anni dopo il Big Bang quindi noi per 300.000 anni non abbiamo informazioni non avevamo informazioni se guardavamo solo le onde elettromagnetiche tant'è vero che gli esperimenti che studiavano la radiazione di fondo cosmico arrivavano fino a 300.000 anni dopo il Big Bang invece con le onde gravitazionali siccome noi vediamo la massa la massa è nata a 10 alla meno 35 secondi dopo il Big Bang quindi se noi riuscissimo a vedere le fluttuazioni primordiali dovuti alle onde gravitazionali primordiali avremo informazioni di quello che è successo oltre dopo i 300.000 anni insieme alle onde elettromagnetiche ma anche ai primi 300.000 anni fino a 10 alla meno 35 secondi dopo il Big Bang chiaramente il fenomeno che noi abbiamo visto e abbiamo osservato è un fenomeno che è relativamente recente perché è appunto un oggetto diciamo che è un evento che è successo un miliardo e mezzo di anni fa però ipoteticamente noi con dei detector più sensibili potremmo arrivare a studiare la relazione gravitazionale di fondo cosmico che ci darebbe informazioni sostanzialmente direttamente del Big Bang perché 10 alla meno 35 secondi è di fatto il Big Bang in un certo senso la terza domanda è se la conoscenza può tra conoscenza e ateismo allora io questo ognuno di noi può rispondere secondo la propria opinione io posso dare la mia che sicuramente è diversa anche da altre persone che lavorano nel campo della scienza cioè il mondo scientifico è un mondo che diciamo è un statisticamente agente di tutte diciamo è un campione statistico della società quindi ci sono persone che credono persone che non credono eccetera io personalmente ho difficoltà a conciliare un dogma con la scienza questo sicuro perché personalmente ritengo che nel momento in cui uno debba indagare i misteri più profondi dell'universo con la ragione astenere la ragione per un argomento è quasi un diciamo in un certo senso lo scienziato dovrebbe per sua natura astenersi nel momento in cui non sa una risposta dovrebbe dire non lo so cioè secondo me il valore l'enorme valore che ci dà la scienza non è sulle domande alle quali diamo risposte ma sull'umiltà che abbiamo nel dire non lo so quindi la mia posizione è io a domande diciamo alle quali formalmente non possiamo dare una risposta razionale tendere a dire non lo so non vedo perché appiccicare un dogma che in un certo senso mi contraddirebbe in un certo senso il principio di base del lavoro in un certo senso cioè astenere la ragione per qualche aspetto è un rischio che uno poi in un certo senso possa inserire un bias nel resto delle sue ricerche quindi io tenderei però questo ripeto è un mio rispetto insomma l'opinione di tutti quanti e questa è una mia posizione quindi faccio difficoltà a conciliare la religione nonostante la scienza e la religione siano due argomenti completamente diversi perché appunto uno si basa sulla ragione ecco trovo completamente strano il voler spiegare con la ragione la religione questo sì oppure voler spiegare con la ragione l'ateismo trovo più più corretto dire non lo so perché devo sbilanciarmi in certe risposte se non ho se non ne ho la possibilità di rispondere quindi questa però rispetta la mia opinione due rapidissime domande uno si può pensare di portare i rivelatori fuori dalla terra come hanno fatto ad esempio con Hubble con altri telescopi per ridurre questo rumore prima cosa seconda cosa come si propagano le onde gravitazionali c'è bisogno di un mezzo perché l'universo è anisotropo io non insegno fisica però di solito i fisici dicono o nel vuoto come le onde elettromagnetiche o nel mezzo come le onde sonore come si propagano grazie allora la prima domanda sì è possibile è possibile fare un esperimento nello spazio anzi ci si sta già lavorando peraltro noi di Perugia abbiamo lavorato per diversi anni sul progetto il cui primo satellite è partito l'anno scorso l'anno scorso verso la fine dell'anno è partito un satellite si chiama ELISA il progetto si chiama ELISA un satellite di prova per costruire un interferometro di questo genere nello spazio nello spazio vicino alla terra in realtà mentre quelli a terra hanno la lunghezza appunto del chilometro quindi 3 chilometri o 4 chilometri anche quello giapponese sarà lungo 3 chilometri si parla si comincia ad indagare se fare progetti futuri a terra di 20 o 40 chilometri ma sembra infattibile perché in realtà un gioco non vale la candela invece nello spazio l'esperimento che si spera di costruire entro il 2030 sarà fatto con 3 satelliti a distanza di un milione di chilometri uno dall'altro quindi sarà un interferometro con bracci di un milione di chilometri inizialmente quando ci lavoravamo di Perugia l'esperimento era per metà NASA e per metà ESA quindi per metà americano e per metà dell'Agenzia Spaziale Europea dopodiché la NASA ha deciso di tagliare fondi perché non aveva più soldi quindi l'Agenzia Spaziale Europea aveva diciamo ha vissuto momenti molto migliori rispetto alla NASA e ancora li sta vivendo e quindi è potuto andare avanti da sola su questo progetto rimodulandolo un pochino ma è andata avanti da sola noi di Perugia ci siamo astenuti per un po' di anni perché abbiamo dovuto lavorare chiaramente il tempo è una realtà finita e quindi abbiamo dovuto lavorare su Virgo e non avevamo più tempo di lavorare su Lisa però adesso probabilmente ci potremo rimettere in gioco anche su Elisa che è il progetto europeo già ci sono dei segnali che visto che le onde di rivelazione sono state rivelate la NASA sta cominciando a pensare di rientrare su quel progetto quindi diciamo sì insomma c'è anche un progetto cinese che sta andando abbastanza diciamo abbastanza avanti per riuscire a realizzare un interferometro in uno spazio quindi diciamo ci sono energie per farlo e la seconda la seconda domanda beh le onde gravitazionali si propagano in realtà nello spazio-tempo quindi si propaga tecnicamente il mezzo di fatto è lo spazio-tempo quindi è quello che noi definiamo vuoto cioè per un astrofisico in realtà il vuoto è un'altra cosa perché il vuoto è l'assenza di tutto anche dello spazio-tempo però se invece noi intendiamo il vuoto come l'assenza di materia appunto come la luce che si propaga nel vuoto allora sì anche l'onda gravitazionale si propaga nel vuoto perché il tessuto il mezzo stesso è di fatto lo spazio-tempo quindi è proprio l'oscillazione dello spazio-tempo quindi non ha bisogno di altro mezzo se non dello spazio dell'esistenza dello spazio-tempo fuori dall'universo l'onda gravitazionale non si può propagare perché mancano sia lo spazio che il tempo chiaramente la velocità di propagazione è quella della luce allora dalla previsione della relatività generale la velocità di propagazione è quella della luce in realtà ci sono altri modelli perché noi parliamo sempre delle teorie diciamo più note in realtà ci sono una quantità di teorie parallele che sono meno note hanno avuto meno successo e che al momento insomma sono meno note anche perché appunto avendo avuto meno successo alcune sono state già scartate al momento tutto sembra confermare che viaggino alla velocità della luce non l'abbiamo ancora scartate le altre teorie nel senso che appunto come dicevo prima non possiamo dare per scontato che sia vera quella quindi continuiamo a tenere in degna considerazione anche teorie simili a quelle della rete generale cioè abbastanza simili chiaramente perché questo ha dato parecchie conferme però insomma quelle più più diciamo interessanti che stiamo tenendo in considerazione che prevedono appunto una propagazione diversa quella della velocità luce però diciamo tutti i segnali lasciano pensare che effettivamente la teoria della rete generale originale sia quella corretta scusi visto che si è parlato di buchi neri ci vuol dire qualcosa a proposito dell'evaporazione di Hawking e quando e perché si innescano oggetti di materia dai buchi neri che sono hanno una lunghezza da come ho letto anche 5.000 anni luce allora io non sono un cioè non sono un esperto della teoria dei buchi neri cioè qui diciamo noi lavoriamo su un settore chiaramente come dicevo gli esperimenti per ondegradizionali sono fatti da tante persone che ognuno si occupa del suo campo quindi io posso dare le conoscenze che ho io ma fermarmi quindi non sono un astrofisico dei buchi neri quindi dovrebbe chiedere questa cosa a un astrofisico dei buchi neri per quanto ne so io allora l'evaporazione dei buchi neri è legata alla meccanica quantistica cioè applicare la meccanica quantistica alla fisica del buco nero quindi sulle scale su piccole scale noi possiamo considerare che fuori dell'orizzonte dell'evento si possano generare come ovunque diciamo nello spazio-tempo e nel vuoto diciamo nel vuoto di materia si possono rispondere grazie a tutti Grazie. Grazie. Grazie.